Soffri di allergia all'acaro? Ti starai domandando cosa fare. Non serve nulla a cambiare il materasso. Il materasso antiacaro infatti non esiste. È indispensabile invece rivestire materassi e cuscini con coperture a trama molto fitta certificate. Questa infatti è la regola d'oro della profilassia ambientale. È proprio nel letto infatti che si trova più del 94% degli allergeni dell'acaro. Ma come scegliere la copertura antiacaro giusta? Non è facile infatti districarsi tra la moltitudine di coperture antiacaro disponibili in commercio. Noi vi spiegheremo come fare. La scelta della copertura antiacaro giusta infatti è fondamentale. Da questo dipende l'efficacia della cura e della prevenzione. Cominceremo definendo quali sono le caratteristiche che deve avere una copertura antiacaro per essere efficace. Deve essere a trama molto fitta, con una struttura regolare a trama e ordito e l'efficacia deve essere certificata. Oltre a bloccare gli allergeni dell'acaro deve consentire un ampio passaggio dell'aria per garantire il comfort della persona allergica. Per non essere intaccata da funghi e muffe deve avere una protezione antimicrobica permanente. Deve essere a sacco e dotata di cerniera per avvolgere completamente materasso, cuscino e piumone. Le coperture a cuffia infatti hanno un'efficacia solo parziale. Deve essere lavabile a 60 gradi poiché gli acari muoiono a temperature superiore ai 55 gradi. Deve essere in microfibra liscia tale da poter essere igienizzata con un panno umido una volta alla settimana. Purtroppo molte delle coperture che vengono vendute come antiacaro spesso non rispettano queste caratteristiche e quindi si rivelano totalmente inefficaci e potenzialmente dannose. È importante tenere presente che un buon tessuto a trama molto fitta è un prodotto di qualità, pertanto i prodotti che troviamo a buon mercato normalmente valgono quanto il loro prezzo. Una delle più importanti riviste di allergologia ha pubblicato una serie di studi comparativi sull'efficacia delle coperture antiacaro e ha dimostrato che le uniche veramente valide ed efficaci sono quelle in tessuto a trama molto fitta. Questi studi hanno dimostrato che tutte le altre tipologie di coperture antiacaro vengono colonizzate e penetrate dagli acari entro pochi giorni, perdendo di fatto la loro efficacia di barriera. Le tipologie di tessuto che si sono rivelate inefficaci sono lacerata, il tessuto non tessuto o polipropilene, tessuto impermeabilizzato, ad esempio con teflon, tessuto con membrana in poliuretano, tessuto con trattamento antiacaro, ad esempio con triclosan o ioni d'argento. Un cenno particolare meritano le coperture in tessuto non tessuto, che non hanno una struttura regolare a trama e ordito, ma vengono realizzate in microfilamenti intrecciati di microfibra. Questi tessuti non solo vengono colonizzati rapidamente dagli acari, ma trattengono tra le fibre una grande quantità di allergeni, che entrano in contatto con la persona allergica attraverso la cute e le vie respiratorie. Gli acari si fanno strada tra questi filamenti e vi rimangono intrappolati e non si riescono più ad eliminare, né con il lavaggio in lavatrice né passando il panno umido, anzi la pulizia con il panno umido li fa penetrare ancora più in profondità. Tenete presente che questi tessuti vengono utilizzati da anni come panni cattura polvere. Voi ci dormireste mai sopra? Certamente no. Cerchereste una copertura con tutte le caratteristiche positive che vi abbiamo spiegato. Le coperture antiacaro microair pristine, grazie alle loro caratteristiche, sono le uniche ad essere brevettate e certificate per svolgere questa funzione. Il tessuto microair pristine è l'unico tessuto a trama molto fitta che certifica la totale impermeabilità agli allergeni, che permette al tempo stesso un'ampia traspirazione e garantisce una protezione permanente da funghi, muffe e batteri. Classificato in Italia come dispositivo medico di classe 1 CE e detraibile fiscalmente, è il tessuto antiacaro più venduto al mondo, il più consigliato da medici e specialisti negli Stati Uniti e in Europa. Inoltre, acquistando un set microair pristine puoi ottenere uno sconto rottamando la tua vecchia copertura inefficace e approfittare della garanzia migliorati o rimborsati. Per maggiori informazioni, anche sulle offerte, www.alpretec.com oppure contatta il nostro servizio clienti.